segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ora dottoressa de luca secondo i sondaggi per biden le cose non sono messe benissimo malgrado il soccorso di barack obama prenda la sua palla di metro e mi dica come finisce allora diciamo che è difficile anche i sondaggisti in questo momento stanno impazzendo sembra che i repubblicani come diceva siano in vantaggio dopo un iniziale vantaggio dei democratici sostanzialmente in genere le elezioni di medio termine avvantaggiano il partito all'opposizione quindi in questo caso i repubblicani i democratici diciamo danno quasi per persa la camera dei rappresentanti e cercano di battersela sul fino di lana per il senato ma potremmo vedere un congresso diviso appunto spaccato tra democratici e e repubblicani o addirittura un congresso interamente repubblicano e questo sarebbe ovviamente un bel problema per l'attuale amministrazione allora sentiamo biden l'ultimo appello al voto un passaggio un passaggio breve democracy is literally on the ballot you know there are more than 300 republican candidates for state local and federal office who are election deni